ciao a tutti e bentornati sul mio canale io sono stefania come vi ho già accennato nel video precedente vi spiegherò anche in questo video come realizzare il pandoro fatto in casa in questo caso con il procedimento senza sfogliatura vi lascio su nelle schede il link al video con la spiegazione del procedimento per realizzare il pandoro con sfogliatura ho trovato sul sito internet viva la pocaccia.it questa procedura questo procedimento di pandoro senza sfogliatura una procedura davvero semplice e veloce giusta adatta per tutti coloro che come me non hanno il tempo di realizzare il metodo classico che è molto lungo elaborato e richiede appunto tante ore di lievitazione anche in questo video come nel video precedente vi elenco gli ingredienti spiegandoveli passo passo prima vi elencherò gli ingredienti per preparare la biga poi quelli per preparare il primo impasto ed infine gli ingredienti per preparare il secondo impasto iniziamo subito gli ingredienti per realizzare la biga sono 65 g di farina manitoba 35 g di acqua calda a circa 37 gradi 15 g di lievito secco un tuorlo d'uovo in una ciotola metto l'acqua tiepida e unisco il lievito di birra secco mescolo per farlo sciogliere un po unisco questo composto ai 65 g di farina già pesati l'incorporo con una spatola il tutto e aggiungo il tuorlo d'uovo procedo impastando anche brevemente a mano formo un panetto liscio che deve lievitare per almeno un'ora al caldo e lontano da correnti d'aria nel video noterete che il colore della ciotola della biga è diverso questo è rosa quell'altro era arancione la biga della ciotola arancione ovviamente non era pronta e di conseguenza ho dovuto utilizzare la biga della ciotola rosa questa fucsia perché avevo già preparato l'impasto in precedenza in quel video stavo realizzando due pandoro diversi anche per il procedimento senza sfogliatura mi faciliterò il compito utilizzando il bimbi ovviamente potete usare una planetaria o procedere con l'impasto a mano io metto nel boccale la farina lo zucchero l'acqua il lievito l'uovo e la biga precedentemente ottenuta faccio lavorare per tre minuti a velocità sfiga il composto che ho ottenuto deve lievitare per almeno un'ora al caldo e lontano da correnti d'aria se dopo un'ora non è ancora raddoppiato di volume lo dobbiamo lasciare lievitare ancora un po' fino appunto ad ottenere il raddoppio più tempo riposa al caldo ovviamente meglio è gli ingredienti per il secondo impasto sono il primo impasto 250 grammi di farina manitoba 150 grammi di zucchero 185 grammi di burro della tosato o margarina vegetale al 100 per cento due uova intere più un tuorlo d'uovo due fiale di aroma alla vaniglia oppure estratto di vaniglia in questo caso si possono sostituire gli aromi con le spezie che più ci piacciono trascorso il tempo di lievitazione aggiungo al primo composto la farina lo zucchero il tuorlo le fiale di aroma alla vaniglia e impasto per due minuti a velocità sfiga in questi due minuti quando mi accorgo che gli ingredienti cominciano ad amalgamarsi mi fermo un attimo e aggiungo le uova intere dal foro del coperchio e faccio ripartire il bimbi e aggiungo poi sempre con le lame in movimento il burro che ho in precedenza pesato e tagliato a pezzi e lasciato in frigo perché deve essere molto freddo terminato l'impasto in burro in farino il mio stampo da chilo pre riscaldo il forno a 50 gradi ventilato svolvero sul piano di lavoro un po di farina e prendo il mio composto che devo impassare velocemente a mano con le mani imburrate mi raccomando mi aiuto con una spatola gli do forma di una palla e lo sistemo nello stampo portando la parte liscia sul fondo lascio che lieviti in forno caldo ma spento fino a quando non raggiunge il bordo dello stampo stesso potrebbero volerci anche un paio d'ore non appena è lievitato completamente lo faccio cuocere a 175 gradi con forno ventilato per 35 40 minuti ovviamente i tempi cambiano in base al forno che abbiamo fate sempre la prova stecchino io utilizzo quelli da spiedino che sono quelli sempre in legno ma molto più grandi se la parte superiore del pandoro dovesse risultare troppo scura e quindi si sta cuocendo troppo e mentre il pandoro non è ancora cotto possiamo ricoprirla con della stagnola a fine cottura il risultato che otterremo sarà identico a quello ottenuto con il procedimento con sfogliatura il mio video termina qui spero sia stato utile e soprattutto spero sia stata chiara nella spiegazione se avete qualche domanda da farmi commentate questo video lasciate tanti pollici in su vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e seguite le istruzioni mi raccomando di spuntare la campanella così non perderete tutti i prossimi video e sarete avvisati con un messaggio di notifica per continuare a seguirmi trovate i link dei vari canali social a cui sono iscritta giù nell'info box ciao e alla prossima